I russi hanno sfondato parecchi giorni fa e nessuno ci ha avvisato. Siamo circondati. Sergio, ma rivedermi mai le montagne nostre? Stava pensando alla sua morosa, ma detto che quando arriva in stazione lei la va a prendere tutta la vestitura di bianco. Rida, porta sempre con te. Stia tranquillo, tenente. Stia tranquillo! Stia tranquillo!